Passo al monte l'ultima prova delle Valesine Kids siamo siamo in partenza per la categoria G1 il nostro Ricky che adesso andremo a inquadrare eccoci primo giro della categoria G1 a lei che c'è ancora un giro vai vai forza e coraggio bravo Ricky bravo Ricky dai che sono lì tutti e cambia adesso cambia bravo Ricky a tutta Ricky bravo 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 Ricky terzo bravo vai ecco i G2 vai Lara eh brava brava Lisa vai Dario vai Pietro vieni Lara forma? brava eh tutto bene Lisa tranquilla quattro giretti è come ieri mi raccomando eh tranquilla eh l'importante è andare fino in fondo eh ok metterli superate e arrivate prima di noi in silenzio e vai Dario vai Luca che mi dico ti dico vai Luca che mi dico vai dai Davi dai Luca che mi dico ti dico ecco i primi passaggi della g2 palladino bravo dario così brava lara brava elisa dai adesso brava bravo pietro così e vai pietro bravo vai elisa vai elisa vai elisa vai 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 dario dai che lì dai dario dai che lì vai dario vai bravo dario fingi vai lisa vai elisa vai cambia cambia vai lara ancora uno bravo lara bravo 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 dario bravo 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 E' un po' più duro, figlio, un po' più duro! La propa, la propa! Un pezzo riso, su! Ale ragazzi, ale, ale, ale! Respira, respira! Bravo Dede, bravo eh! Bene in discesa! Bravo Dede! Vai Samu, eh! Subito il rapporto da velocità, eh! Bravo Dede, così eh! Vai Samu! Così, dai che c'è lì! Dai 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 dai! Bravissima Ale, brava! Bravo Dede! Bravo Dede! Tranquillo eh! Affede! Affede, bravo! Bravo! Bravo Samu! Bravo Rivalto! Mi ha messo la mano qua sopra per fermar la carta! Ti freno io davanti così così! Così poi abbiamo fatto il salto! Ho fatto così! L'altro, appunto, l'appartenza tu ne fai io! E mi sei pronto io! E tu sei di fermo ancora a gianciare questa mia! Cosa sta faremo il fratello? Vai Leo! Vai Leo! Vai Gabri! Vai Marta! Giù Marta! Giù Marta! Vai Marta Decista! Vai Marta Decista! Vai People in Iglesias! Vida activation! Grazie a tutti! Pravarla di Leo leo! Bravo Leo! Vida2021! Machina Dede! Sparola dei Al'impost! Papa e Leo! bravo così, bravo così tienili Teo, tienili, dai dai che ce la fai bravo Leo, adesso Leo, adesso dai Leo, dai da dietro vai Teo, vai 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 vai, bravo stai lì sotto Leo, guarda che la sei arrivato vai, dai bravo 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 Leo grande Leo grande bravo bravo Leo grande, grande, grande grande Leo secondo posto bravo 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 ottima gara a tutti e tu dai grandissimi grandi grande gara bravi bravi dai davide, dai che sono lì, dai che sono lì, vai dai 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 mette 8 dai davide, dai davide, cambia, 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 bravo davide dai bravo dai che è l'ultimo, dai 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 vai avanti che c'è lì uno bravo davide, bravo, 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 dai 10 sei dentro, sei l'ottavo, bravo, vai vai a bere, bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo, via, quasi pronti per la G6 la donna salta guarda bravo, 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 bra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai Cate, dai Ricci, lasciala correre sta Vicky. Cate vai. Dai Cate. Dai Ricci, dai Ricci, dai Ricci. Dai Ricci, dai Ricci. Via Cate, via. Dai Ricci, dai Ricci, dai Ricci, dai Ricci. Ciao a tutti. Qualcuno di voi ho visto la settimana scorsa che siete venuti a Mantua, a Piube, a Cone, che c'è stato al regionale. Volevo fare anche i complimenti agli organizzatori perché è una manifestazione organizzata molto molto bene. Quindi bravi a tutti. E a voi bambini voglio dire di non perderle entusiasmo e adesso che siete così piccoli godetevi il ciclismo, divertitevi, che è l'unica cosa che conta. I risultati, bello, ma è importante che vi divertite e che vi impegnate. Grazie a tutti. E al primo posto con una gara di rimonta e di attacco sul finale per la società EU Green, Lazzarini Nata. E in questa categoria tra le fanciulle si è distinta un'altra ragazza del posto. con una stand e la vinte tutte, chiedo un bel applauso per Ludovica Benoia. E in questa categoria tra le fanciulle si è distinta un'altra ragazza del posto. E in questa categoria tra le fanciulle si è distinta un'altra ragazza del posto. secondo posto per il bravissimo Leonardo Prataviera San Martino. e al primo posto un'altra ragazza del posto. E al primo posto un altro campancino targato da EU Green, Matteo Colombo. Per le donne invece a primo posto dal Zobo Arianna al secondo posto la numero 607 Proietto Lucia. e al terzo posto Merletti Marta. e al terzo posto Merletti Marta. perché che le spine che c'è il sisters and the聯 our team che ha compagiato la mia scantina e allora un grande ragazza di chiunque e alla prossima громata e al primo posto un altra ragazza del posto Katarina Prataviera Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi insieme ancora all'ultimo minuto di pazienza I giudici hanno ostinato la classifica delle società Ragazzi vanno a dipendare con la fortuna per il futuro Invito solo la società vincente a sentire Oh facciamo un passo più con l'orecchio Facciamo un bel casino Al terzo posto e con 40 minuti Fuck you A seconda posto con 50 minuti 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 A seconda posto con 20 minuti A seconda posto con 50 minuti Grazie a tutti